Benvenuti in questo video, sono Gio95 e siamo su ProStars. Allora, se volete sentire l'audio più forte, aumentate l'audio del telefono perché io parlerò basso. Ve l'ho detto in altri video, questo video non so quando lo vedrete perché io ve lo registro il prima e poi ve lo vedrete più avanti quando riuscirò a caricarlo perché io il video del telefono ricarico giovedì e venerdì perché questi giorni sono impegnati perché hanno altri video e quindi devo caricare in quei giorni lì. Però quando io registro questo video, i giorni giovedì e venerdì vi carico altre serie, quindi non riesco a caricarvi Brawl Stars, quindi uscirà più avanti. Adesso non so quando lo vedrete, io magari avrò già fatto altri potenzialmente. Ma per ora vedete che abbiamo Nita, abbiamo Nita, infatti iniziamo le Brawl, abbiamo Shelly a livello 11 con Overdrive e Nita con livello 11. Allora, Shelly ve lo fate vedere e ho tutti, fatemi vedere dall'audio di gioco perché sennò non ci sento, ok, perfetto. Ho tutti i gadget, tutti i completamenti, tutte le beta stellari e l'overdrive, quindi ho tutto di Shelly. E quindi va bene, Shelly ve lo fate bene sull'episodio, ho fatto anche la vittoria con Shelly, quindi va bene. Adesso proveremo con Nita. Nita però è diverso perché non ho acquistato tutta la roba che c'era nel suo inventario. Perché, vabbè, di gadget ero tutte due, perché ho cambiato gadget perché era molto meglio questo. Una volta attivato i gadget, allora si è nita, ottiene uno scudo che riduce i danni distribuiti del 35% per 3 secondi. Quindi è buono quando loro si avvicinano. Poi ho messo l'equipitamento, questo qua è epico, alleato informissimo, aumenta la forza dell'alleato e la stiera con le abilità. Poi ho messo corso di sberle, che praticamente dà più sberle più velocemente, quindi è molto buono, visto che con il gadget posso ridurre il danno e dare tanti schiaffoni, quindi è molto forte così. E poi ho aumentato i danni, fa costare più il 15% di danni in più quando la sua salute è sotto il 50%, quindi quando Nita ha poca vita fa più danno, fa 15% di danni in più, quindi è molto buono. Se poi voi avete un'equipitamento migliore da inserire a Nita, me lo dite nei commenti e io ci penserò su. Intanto abbiamo Nita a livello 11, quindi proveremo Nita, non ho acquistato la roba Nita perché le monete ce le ho, però se le uso tutte per Nita, dopo non le ho per potenziali gli altri, e quindi visto che il tablore sono tanti, voglio potenziali il più possibile, io vi ricordo che questi video sono in più, quindi non presentate che questa serie possa durare all'infinito perché la serie sarebbe già finita, e gli episodi sono quelli che sto facendo in più. Ho fatto uno di Shelly, ho fatto uno di Nita, ne ho fatto uno per ogni broder, se riesco a farlo, se no vi arrangiate perché io non posso shoppare, quindi non shoppo, anche se potessi non shopperei lo stesso. Quindi non andrei a shoppare qualcosa su Pro Star, su qualsiasi gioco. Poi vedete, ho tutti questi nuovi broder che abbiamo noi, poi qua sono tutti quelli da sbloccare, quindi ne abbiamo tanti, su la 2,74, quindi ne mancano 22 da sbloccare. Non so se li riuscirò a sbloccare, però più in piano se il gioco li posso sbloccare, altrimenti lo gioco sempre, quindi considerate che io possa fermarmi a un certo punto e fare altro, perché questo gioco mi riempie la vita, perché mi richiede un sacco di tempo per fare tutti i miglioramenti, per fare le battaglie, le partite, e quindi è così. E niente, vabbè, 2 broder a livello 11, proveremo Nita a livello 11, livello Mass, vediamo com'è Nita a livello 11, fatemi vedere quanto danno fa Nita. 8000 salute, 1920 di danno, orso un guai. Ok, vabbè, con l'abilità schiera l'orso, questo l'ho capito. Quindi vabbè, devo usare i combo di gadget, se no non riesco a sfruttare l'orso. Vabbè, allora intanto andiamo su sopravvivenza, proviamo questo brawler in sopravvivenza, se non ci riesco faccio la vittoria in Raffa Gem, quella magari più semplice. Poi intanto facciamo sopravvivenza, proviamo un po' di volte, se non ci riusciamo, niente, ci fermiamo, ce l'abbiamo in modalità. Vorrei che fare una vittoria con ogni brawler, quindi adesso vorrei tentare con Nita. Ok, perfetto. Andiamo con Nita, no, c'è il tipo. Ok, se ne va, no, non se ne va. Niente, non ho detto. Niente, prendiamo l'altra cassa. Prendiamo l'altra cassa. Ok. Bombardino. Bombardino, ma possiamo fregargli la cassa. Ok, un altro colpo. No. Cavolo. Che briga ha usato. Questo non lo conosco come brawler, quindi non so cosa faccia. Convince quindi chi nemice. Io non li conosco sti brawler, quindi... Vabbè, lo proveremo quando lo sbloccheremo, o comunque quando lo utilizzerò. Vabbè, comunque, quindi... Vabbè, livello 11, Nita livello 11 non mi siamo praticamente forte. Bombardino, che... Ancora è anche il brawler lì. Non lo avessero conto, perché quello lì fa... Fa i buchi. Con quell'abilità lì... Non ce l'abbiamo conto. C'è fang lì sopra. Devebbe essere fang quello lì, no? Non mi ricordo il nome del brawler, quindi... Devo vedere. No, no, tirarlo a lui. Adesso devi tirarlo a lui. Ok, non mi fa molto. Il brefetto, fang buttato giù. Deve che si chiami fang, non lo so. In questo video vi ripeto che lo vedrete... No, la sua abilità. La sua abilità. Ok, bravo orso, bravo orso. No, l'ho sessato ucciso. Ok, è rimasto solo lui. Cavolo, cavolo. Attenzione. Vai orso, vai orso. Niente, non sa fatta l'orso. Ne ho ucciso prima. Vabbè, salvo al secondo. Ok, salvo al secondo. Vabbè, prendiamo il vostro premio. 50 monete. Vediamo quanto sta registrando. Proviamo un'altra volta. Se riesco a vincerla... Se riesco a vincerla, allora va bene così. Se no, facciamo un'altra modalità. Guarda, il secondo posto ho fatto. Non è andato molto bene, eh. Perché il rossa mi ha dato una gran mano. Secondo me questa non la vinciamo. Ve lo dico io perché... Lo so già, perché sono sfortunato io. Ah, Mico. Mico... Niente. Quello salta, perché... Quello salta e... Non possiamo farci niente. Energetica. No. Vai via. Colpisce lui. Ok. Niente, ha vinta energetica. Ho colpito. Ho colpito. Aia. No, 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 no. Non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire. Dynamike. Se tira la sua super mi ammazza. Ok. Non mi ha colpito energetica. Adesso sì. No, stavate è rimasto in trappola lui. No, mi ammazzano. Niente, mi ha ammazzato. Potevo farcela, ma... Non ce l'ho fatto. Sare di vettore più uno. Va bene. Dai, proviamo un'altra volta. Ci voglio provare. Ok. Ci voglio riprovare in... In solo. Vediamo come va. E se no facciamo... Facciamo... Alla facciamo. Ok. Va bene. E non lo so, perché questi qua sono forti, eh. Sennò mi staccano. Niente è debole. Perché Niente è una dei primi prole usciti, quindi... Quindi non è molto forte. Il gioco alto. Ok. E c'è un altro colt. Mi impegniamo le casse. No, no. Cavolo, vedi? Come si può giocare in queste condizioni? Ti va uno da parte, uno dall'altra. Allora, io ci provo a fare... A fare le cose. Però... Che non mi riescono, non mi riescono. Vai, proviamo a raffa gem. Vediamo se riusciamo a fare una vittoria. Perché qua... Con Nita dovremmo cercare di vincerla. Dovremmo provare a vincere con Nita. Perciò che... Qui... Ok. Ok. Ok, Buzz il primo è colt. In realtà, secondo me, fa più danno a loro. Ora, se mi nasconde nei cespugli, potrei fare... Ok. Colt. Ok, colt è andato. Perfetto. E' il primo. Il primo, ok. Le abbiamo fatti fuori tutti, eh. Ok. Loro rimangono là, noi prendiamo le gemme. Ok, è morto un altro, è morto l'altro, ok. Vedi, qua è un po' più semplice perché siete in squadra, quindi se Nita è debole, almeno... Anche se è il primo a livello 11, quindi non dovrebbe essere debole. Ah, è il primo. Ok, il primo l'abbiamo ucciso. Ok. Ok, ho ucciso Buzz. Dove avete Buzz il suo nome. Vai orso! Vai orso! Ok, l'orso ha ucciso. Ok, abbiamo ucciso anche quello. E' il primo, abbiamo ammazzato direttamente. Perfetto, abbiamo vinto. Va bene così. La vittoria con Nita l'abbiamo fatta. Ok. Più 8, 3 fei. Va bene. Vincite la battaglia. Abbiamo vinto. Ok. Ok, vincite la battaglia e me l'ha dato. Ok. 50 punti, 20 punti e 5 gettoni. Ok. Adesso dovrò completare le scattature ricompense. Però lo faccio fuori dal video perché sennò vi annoio. E quindi va bene così. Tanto abbiamo vinto con Nita. Adesso il prossimo video lo farà con Colt. Se riuscirò a potenziarlo. Dipende a quanto costa perché con lui abbiamo Abbiamo i gadget. L'ecropeggiamento. Ne abbiamo 7. Le piaccia serali ce l'ho già. Quindi non devo costarle. Altro ecropeggiamento. E l'overdrive. Quindi dovremmo costare un sacco di roba. Però lo farò off camera. Perché tanto non penso che mi interessi. Quindi lo facciamo off camera. Intanto abbiamo vinto con Nita. Quindi stavolta Nita ha avuto la meglio. Anche se potremmo quasi vincere anche A diferenza di Shelly Anche la battaglia in singola. Però Quello là ci ha fregato. Quindi Niente C'è nata male. Però intanto abbiamo fatto Una vittoria con Nita. Quindi Secondo me va bene come video. Se poi volete qualcosa altro. Volete vedere più Più combattimenti. O fare più Spacchettamenti. Oppure Fare più potenziamenti. Volete vedermi che potenzio I brawler. Me lo dite E io Vi ascolto. Tanto questo video uscirà Non so quando E C'era questo Che il suo yale Che vi ho già registrato. Quindi non so quando Vedete questo video Magari ci andate più tardi. Anche se I progressi L'ho fatto in quel giorno lì Il video ci è più tardi. Quindi Va bene Io spero che Il video Vi sia piaciuto. Io vi ascolto sempre Quindi vi raccomando Commenti Like Condivisione Il video canale E noi ci vediamo Il prossimo video A presto